Rudy Rotta ha iniziato a suonare all'età di 14 anni in Svizzera, Lucerna, dove la famiglia era emigrata all'inizio degli anni 60. È residente dall'età di 18 anni a Verona, dove ha iniziato la carriera esibendosi dapprima nei locali in città come chitarrista in giovani. Gruppi emergenti, vedi Condors di Verona, in un repertorio soul blues di gruppi inglesi ed americani. Nel 1987 ha formato la propria band, con cui si è impegnato all'estero, fino ad essere considerato a livello internazionale un ottimo esponente della musica blues, ed ottenendo riconoscimenti dalla stampa e dalla critica. La sua carriera musicale si svolge principalmente all'estero, dove è attivo dalla fine degli anni 80. Rotta è stato invitato come ospite a numerosi festival blues in Europa ed oltreoceano. Kansas City Blues Festival, insieme a Peter Green, Brian Setzer, Time Hall, in quella occasione i Kansas City Chronicle, quotidiano locale, lo ha definito Europe's Top Act. Ovvero numero uno europeo, molto risalto dalla stampa nazionale ed internazionale è stato dato alla partecipazione al Festival Jazz di Montreux nel 1993. Con B, B, King, in veste di ospite, al Pistoia Blues Festival, quattro edizioni, e al primo maggio di Roma. Nella sua presenza nove edizioni di Sanremo Blues, ad uno dei quali è stato premiato come migliore bluesman italiano. Negli anni 90 ha registrato per la BBC inglese e per la Jazz FM di Londra.